Scoperti 110 evasori totali completamente sconosciuti al fisco ed ancora 531 lavoratori nero e irregolari, 60.000 prodotti industriali contraffatti e 24 chili di droga sequestrati. Sono questi alcuni dei risultati delle indagini delle fiamme gialle di Arezzo svolte nel 2023 e nei primi mesi del 2024 resi noti dal comando provinciale in occasione dell'anniversario della fondazione del corpo. In questo lasso di tempo i finanzieri hanno eseguito 376 interventi ispettivi e 250 indagini per contrastare leciti economico-finanziari e infiltrazioni della criminalità nell'economia, un impegno a tutto tondo destinato a intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza. I soggetti denunciati per reati fiscali sono stati 87, mentre il valore dei beni sequestrati è confiscati di 764.933 euro. Le proposte di sequestro, tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria, superano invece i 16 milioni. Sono poi 11 casi di evasione fiscale internazionale scoperti principalmente riconducibili e stabili organizzazioni occulte in Italia. Sono state avanzate anche 52 proposte di cessazione di partita IVA nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. La Guardia di Finanza ha poi dedicato una particolare attenzione agli illeciti in materia di spesa pubblica. Tra i controlli che riguardano le prestazioni sociali agevolate è stato realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita percezione del rettido di cittadinanza, che hanno permesso di intercettare 482.799 euro di erogazioni indebitamente percepite ed oltre 125.000 euro di aiuti richiesti non ancora riscossi, nonché di segnalare 56 soggetti all'autorità giudiziaria per i reati di falso. Sul fronte della tutela del mercato dei capitali sono stati operati sequestri e confische di beni per un valore di 12.811.315 euro. Sette le persone denunciate in materia di riciclaggio e autoriciclaggio per un valore che supera gli 11 milioni. In applicazione della normativa antimafia, infine, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 41 soggetti ed ammonta 380.413 euro il valore dei beni proposti all'autorità giudiziaria per il sequestro.